Se riusciamo a fare un movimento però letto, morbido, ci avviciniamo perché se siamo in velocità non serve a niente. No, ma ciò è veloce e poi ci siamo in avanti. E ora, siccome adesso è a favore, ci passiamo davanti nel caso. Anche a questa velocità. Sì. Dai, proviamo. Ragazzi, non poco loro videranno. Se vogliamo anticiparla, avanziamo. Facciamo le immagini da tua e poi in te. D'accordo. Dai, vai, vai, vai. Andiamo avanti. Dai, vai, vai, vai. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.